Epilogo In uno splendente pomeriggio d'ottobre, nel cuore delle vacanze di metà trimestre, Snow scese la scalinata di marmo del Dipartimento delle Scienze dell'Università, ignorando con modestia le teste che si giravano al suo passaggio. Era magnifico nel suo nuovo completo, specie adesso che gli erano ricresciuti i riccioli, e il periodo trascorso nei pacificatori gli aveva conferito un certo prestigio che faceva impazzire di gelosia i suoi rivali. Aveva appena terminato uno speciale corso d'eccellenza in strategia militare con la dottoressa Gould, dopo una mattina trascorsa la cittadella, dove si era presentato per il suo tirocinio come stratega. Se lo si voleva chiamare così, in realtà gli altri lo trattavano come un membro della squadra a tutti gli effetti. Stavano già lavorando sulle idee per coinvolgere i distretti, così come Capital City, negli Hunger Games dell'anno seguente. Era stato Snow a sottolineare che, oltre alla vita di due tributi che magari non conoscevano neppure, gli abitanti dei distretti non avevano nessun interesse diretto nei giochi. La vittoria di un tributo doveva essere una vittoria per l'intero distretto. Da lì era nata l'idea che tutti nei distretti ricevessero un pacco di cibo se uno dei loro tributi avesse ottenuto la corona. E per indurre tributi di qualità migliore, a offrirsi magari come volontari, Snow aveva suggerito che al trionfatore fosse donata una casa in una zona speciale della città, provvisoriamente chiamata Villaggio dei Vincitori, che avrebbe suscitato l'invidia di chiunque abitasse nelle catapecchie del distretto. Quello, e un premio simbolico in denaro, avrebbero contribuito in maniera sostanziale ad assicurare un raccolto di partecipanti decenti. Le sue dita carezzarono la borsa tracolla fatta di pelle morbida come il burro, un regalo dei plinte per il suo ritorno agli studi. Era ancora incerto su come chiamarli, ma gli riusciva abbastanza facile, ma chiamare padre Strabo non gli sembrava appropriato, quindi usava per lo più signore. Non era come se lo avessero adottato. A 18 anni era troppo vecchio per quello, e in ogni caso, esserne l'erede designato gli andava anche meglio. Non avrebbe mai rinunciato al nome Snow, neppure in cambio dell'impero delle munizioni. Era successo tutto in modo molto naturale. Il suo ritorno a casa, il dolore dei plinte, l'unione delle due famiglie. La morte di Seianus aveva distrutto i suoi. Strabo l'aveva detto con grande semplicità. Mia moglie ha bisogno di una ragione per cui vivere, e anch'io del resto. Tu hai perso i tuoi genitori. Noi abbiamo perso nostro figlio. Pensavo che forse potremmo trovare un accordo. Aveva comprato l'appartamento degli Snow in modo che non dovessero trasferirsi, e quello dei Doolittle, al piano di sotto, per sé e ma. Si parlava di ristrutturare, di mettere una scala a chiocciola, e magari un ascensore privato per collegare le due case. Ma non c'era nessuna fretta. Ma faceva loro visita ogni giorno per dare una mano con la signora nonna, che si era rassegnata alla nuova cameriera. E lei e Tigris andavano d'accordissimo. I plint pagavano per tutto ormai. La tassa sull'appartamento, la sua retta universitaria, il cuoco. E gli passavano anche una paghetta generosa. Cosa utile perché, anche se aveva intercettato la busta di denaro che aveva mandato a Tigris dal distretto 12, e se l'era intascata, la vita dello studente era dispendiosa, se condotta nel modo giusto. Strabo non metteva mai in discussione le sue spese, né tantomeno cavillava su qualche nuova aggiunta al suo guardaroba, e sembrava compiaciuto quando Snow gli chiedeva un consiglio. Erano incredibilmente compatibili. A volte quasi dimenticava che il vecchio plint veniva dai distretti. Quasi. Quella sera sarebbe stato il diciannovesimo compleanno di Sejanus, e loro si sarebbero riuniti per ricordarlo durante una cena tranquilla. Snow aveva invitato anche Festus e Lisistrata, perché avevano apprezzato Sejanus più di gran parte dei loro compagni, e perché si poteva contare sul fatto che avrebbero detto cose carine. Pensava di offrire ai plint la scatola presa dall'armadietto di Sejanus, ma prima aveva un'altra cosa da fare. L'aria fresca della passeggiata fino all'accademia gli affilò la mente come un rasoio. Non si era preoccupato di prendere un appuntamento, preferiva capitare lì all'improvviso. Gli studenti erano usciti un'ora prima, e i suoi passi risuonavano lungo i corridoi. La scrivania della segretaria del decano High Bottom era vuota. Così si diresse verso l'ufficio, e bussò alla porta. Il decano lo invitò a entrare. Tra la perdita di peso e il tremore, aveva un aspetto terribile, accasciato com'era sulla scrivania. «Bene, a cosa devo questo onore?» chiese. «Speravo di riavere il porta cipria di mia madre, dal momento che lei non ne avrà più bisogno», rispose Snow. High Bottom infilò la mano in un cassetto, e schiaffò l'astuccio sulla scrivania. «È tutto?» «No». Tiro fuori la scatola di Sejanus dalla tragolla. «Stasera intendo restituire gli effetti personali di Sejanus e i suoi genitori. Non so bene cosa fare di questo». Svuotò la scatola sulla scrivania, e raccolse il diploma incorniciato. Pensavo non lo volesse in circolazione, un diploma dell'Accademia attribuito a un traditore. «Sei molto scrupoloso», commentò il decano. «È il mio addestramento nei pacificatori». Snow sganciò il retro della cornice e fece scivolare fuori il diploma. Poi, come d'impulso, lo sostituì con una foto della famiglia Plint. «Penso che i suoi genitori preferiranno così, comunque». Fissarono entrambi i resti della vita di Sejanus. Poi il ragazzo spazzo via le boccette di medicine, facendole cadere nel cestino di High Bottom. «Meno brutti ricordi ci sono, meglio è». Il decano lo guardò. «Ti sei fatto crescere un cuore nei distretti?» «Non nei distretti. Negli Hunger Games», lo corresse Snow. «Devo ringraziarla per questo. Dopotutto è lei il responsabile». «Oh, credo che il merito dei giochi vada per metà a tuo padre», disse il decano. Snow si accigliò. «Cosa significa? Pensavo che gli Hunger Games fossero una sua idea, qualcosa che ha elaborato all'università». «Per il corso della dottoressa Goal, nel quale stavo per essere bocciato, visto che il disgusto per lei mi rendeva impossibile esserne parte attiva. Ci siamo divisi a coppie per l'ultimo progetto, quindi io ero con il mio migliore amico. Crassus, naturalmente. Il tema era ideare una punizione per i nemici, così estrema da non permettere loro di dimenticare mai più di averci fatto del male. Somigliava a un puzzle, in cui per inciso sono bravissimo, e come tutte le idee geniali, era di una semplicità assurda nella sua essenza. Gli Hunger Games, l'impulso più malvagio abilmente impacchettato in un evento sportivo. Uno spettacolo. Ero ubriaco, e tuo padre mi fece ubriacare ancora di più, giocando sulla mia presunzione mentre sviluppavo il progetto e assicurandomi che si trattava solo di uno scherzo tra noi. Il mattino dopo mi svegliai, inorridito da ciò che avevo fatto, e deciso a stracciare tutto, ma era troppo tardi. Senza il mio permesso, tuo padre aveva consegnato il progetto alla dottoressa Gould. Voleva lui il voto, capisci? Non l'ho mai perdonato. È morto, disse Snow. Ma la Gould no, ribatté il decano Highbottom. Non avrebbe dovuto essere nient'altro che un'esercitazione teorica. E chi l'avrebbe mai messa in atto, se non il più spreggevole dei mostri? Dopo la guerra, lei ha tirato fuori la mia proposta, e nello stesso tempo anche me, presentandomi a Panem come l'artefice degli Hunger Games. Quella notte ho provato la morfamina per la prima volta. Credevo che la faccenda si sarebbe arenata lì, tanto era spaventosa. E invece no. La dottoressa Gould ha colto l'occasione al volo, e negli ultimi dieci anni non ha fatto che obbligarmi a seguirla. Di sicuro i giochi sostengono la sua visione dell'umanità, commentò Snow. Specie visto che usano i bambini. E perché mai? Chiese il decano. Perché attribuiamo loro l'innocenza. E se anche i più innocenti tra noi diventano assassini negli Hunger Games, cosa significa? Che la nostra natura è fondamentalmente violenta, spiegò Snow. Autodistruttiva, mormorò Highbottom. Snow ricordò il racconto di Pluribus a proposito del litigio tra suo padre e il decano, e citò le parole della lettera. Come falene verso la fiamma. Il decano socchiuse gli occhi. Snow si limitò a sorridere e aggiunse. Ma naturalmente lei mi sta mettendo alla prova. Conosce la dottoressa molto meglio di me. Non ne sarei così sicuro. Highbottom percorse con il dito la rosa d'argento sul Porta Cipria. Cosa ha detto quando le hai annunciato che te ne andavi? La dottoressa Gould, chiese Snow. Il tuo piccolo usignolo, disse il decano. Quando hai lasciato il dodici. Era triste quando ti ha visto partire? Penso che la mia partenza abbia reso un po' tristi entrambi. Snow si mise in tasca al Porta Cipria e radunò le cose di Sejanus. Sarà meglio che vada. Ci consegnano un nuovo salotto e ho promesso a mia cugina che sarei stato lì a controllare gli operai. Vai allora, disse il decano Highbottom. Torna al tuo attico. A Snow non piaceva parlare di Lucy Gray con nessuno, tantomeno con il decano. Smiley gli aveva mandato una lettera al vecchio indirizzo dei Plint in cui diceva che era sparita. Tutti pensavano che il sindaco l'avesse uccisa, ma non c'erano prove. Quanto ai covi, la prima mossa del nuovo comandante che aveva sostituito Hoff era stata bandire gli spettacoli al forno, perché la musica portava guai. Sì, pensò Snow. Verissimo. Il destino di Lucy Gray era un mistero, quindi, proprio come quello della bambina che portava il suo stesso nome in quella canzone esasperante. Era viva, morta, un fantasma che infestava la deserta landa? Forse nessuno l'avrebbe mai saputo. Non aveva importanza. La neve, in entrambe le sue forme, era stata la rovina di tutti e due. Povera Lucy Gray. Povera ragazza fantasma che vagava cantando insieme ai suoi volatili. Verrai. Verrai. All'albero verrai, ove ti dissi, corri se ci vuoi liberare. Poteva volare intorno al distretto dodici quanto le pareva, ma lei e le sue ghiandaie imitatrici non gli avrebbero mai più fatto del male. A volte ricordava qualche momento di dolcezza e desiderava quasi che le cose fossero andate in maniera diversa. Ma tra loro non avrebbe mai funzionato, anche se fosse rimasto. Erano troppo diversi, semplicemente. E lui non amava l'amore, il modo in cui l'aveva fatto sentire sciocco e vulnerabile. Semmai si fosse sposato, avrebbe scelto una donna incapace di condizionare il suo cuore. Una che detestava, addirittura. Così che non potesse mai manipolarlo come aveva fatto Lucy Grey. Mai renderlo geloso. O debole. Livia Cardio sarebbe stata perfetta. Immaginò loro due di lì a qualche anno, Presidente e First Lady, che presiedevano agli Hunger Games. Perché avrebbe fatto proseguire i giochi, naturalmente, quando avesse governato Panem. La gente gli avrebbe dato del tiranno, crudele e con il pugno di ferro. Ma almeno lui avrebbe garantito la sopravvivenza per il bene della specie, offrendo agli individui la possibilità di evolvere. In cos'altro poteva sperare l'umanità? In realtà, la nazione avrebbe dovuto ringraziarlo. Superò il locale notturno di Pluribus e si concesse un mezzo sorriso. Ci si poteva procurare del topicida in tanti posti, ma la settimana precedente lui ne aveva raccolto di nascosto un pizzico dal vicolo sul retro e se lo era portato a casa. Era stato complicato farlo entrare nella boccetta della morfamina, specie con i guanti, ma alla fine era riuscito a infilarne una dose sufficiente attraverso l'apertura. Si era accertato che la boccetta fosse perfettamente pulita. Non c'era niente in grado di insospettire il decano High Bottom quando l'avesse presa dal cestino e se la fosse messa in tasca e nemmeno quando avesse svitato il tappo del contagocce e si fosse versato la morfamina sulla lingua. Anche se Snow non riusciva a non sperare che, mentre esalava l'ultimo respiro, il decano capisse ciò che avevano capito molti altri quando l'avevano sfidato. Ciò che tutto Panem un giorno avrebbe saputo. Ciò che era inevitabile. Gli Snow si posano in cima. Original Music by David Mansfield. Copyright 2020 by Scholastic Inc.